Musica Ho sentito che per adesso i piloti sono molto contenti Il percorso è quello di casa, il mio di casa, è molto bello E molto veloce con l'autopostazione di rallentamento E niente, per adesso siamo tutti contenti Abbiamo avuto un intoppo alla seconda mash Che alcuni hanno picchiato, hanno rotto delle macchine Ma niente di che La scuola Grazie a tutti. Ci si diverte, è bello il percorso molto veloce e tecnico, no? Sì, veloce e tecnico e c'è anche bel tempo, non si può chiedere di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.